Ha preso il via l'edizione 2015 del percorso di formazione protagoniste nei governi locali. Quattro incontri tematici guidati da docenti universitari ed esperti del settore rivolti alle donne elette nelle amministrazioni locali. Il percorso gratuito si è aperto 6 marzo nell'Aula di Palazzo Lascaris e prosegue fino al 2 aprile nelle sedi di Alessandria, Asti, Torino, Cuneo, Vercelli e Novara.